Oggi è l'anniversario dei nonni, guardate che regalo glielo ho fatto, adesso glielo portiamo. Auguri, buon anniversario, guarda, guarda che ti ho portato, guarda, guarda, c'è pure il bigliettino lì, apri il bigliettino. Nonni, per i nonni, lo stai a leggere lì in contrario, lo devi aprire, c'è dentro il bigliettino, aprilo. Per i nonni, esatto, leggi, nonna, leggi, dai, leggi, dai, te lo leggo io, mi sa famo prima, buon anniversario a voi, per voi il girasole, simbolo di allegria, vivacità, ottimismo, fedeltà e perseveranza. E adesso baciala, dai nonno, dagli sto bacio una volta per tutte. No, tu hai pronto una sera? No ti ho finito no ma lei mi lasciava ma io mi andavo a fare il piano